Vino e cinema, ecco il binomio proposto dalla cantina Villa Crespi, arcipelago muratore di Adro, che proporrà la visione di film dedicati al vino e al cioccolato insieme alla degustazione. Cinema in cantina, il sapere delle immagini, le vie del vino e del cibo sono infinite. Questo è il titolo dell'iniziativa che abbiamo inaugurato insieme alla Biblioteca di Adro e al Comune di Adro quest'anno. Un'iniziativa che ha avuto un bel successo, che nasce con l'idea di fare un abbinamento diverso da quello tradizionale che è cibo-vino, ma è quello di film-vino. L'occasione per noi di raccontare di Villa Crespi e di arcipelago muratori, quindi quattro film, ciascun film sarà in abbinamento ad un vino diverso di arcipelago muratori. Quindi ci saranno i Franciacorta di Villa Crespi, i rossi di Rubi Alcolle, i gialli di Oppi d'Aminia e poi passiamo a Ischia con l'abbinamento al film che è più atteso, che è Chocolat. Sideways in abbinamento al San Giovese della Val di Cornia, poi il profumo del mosto selvatico, un film, un filmone che non potevamo non includere in questa rassegna cinematografica, in abbinamento al Fiano del Sagno Beneventano e poi appunto Cioccolat in abbinamento a passito secco dell'Isola Dischia Giardini Arimei con abbinamento anche appunto di cioccolato. Villa Crespi vuole aprire le braccia alla popolazione Franciacortina e non solamente per farsi conoscere. Esatto, questa è l'idea, l'idea di proporre una domenica diversa, una domenica da passare tra cultura e la voglia di sapere qualcosa un po' di più del proprio territorio. Da parte nostra poi l'opportunità di raccontare di vino attraverso il linguaggio cinematografico è un'occasione irrinunciabile, proprio perché si comunica in una maniera un po' diversa. Per informazioni relative a quest'ultimo evento che è da prenotare,